eccoci qui cari amici di viene a vivere all'estero buongiorno e benvenuti ben ritrovati sul canale che vi aiuta andare all'estero con le vostre gambe con le vostre forze e oggi parliamo di un tema tanto tanto atteso che il caro affitto allora ne parla in maniera specifica qualche annetto fa in un altro video in cui parlai della soluzione per risolvere questo problema e a qualche anno di distanza il problema si è esacerbato quindi il caro affitti è diventato ancora più potente ci sono degli articoli sui giornali qui fanno vedere dei ragazzi che si iscrivono al college e devono dormire in tenda in tenda perché l'affitto è troppo caro non ci sono delle speculazioni enormi come fare tutto questo marasma per riuscire a avere la propria esperienza all'estero senza dover sborsare cifre folli allora vi do una subito una bella notizia tutti quelle persone che ho seguito finora nelle one to one con le consulenze professionali hanno trovato delle soluzioni adatte senza dover fare cose folli quindi la maniera c'è la maniera c'è basta riuscire a pensare fuori dallo schermo dovete fare un lavoro molto semplice dovete pensare la massa di persone dove vuole trovare casa e di solito guarda quegli annunci che sono sotto gli occhi di tutti e quindi sceglie quelle zone della città che sono più comode più in centro più servite ma la realtà è che ci sono sempre in qualsiasi momento delle zone che nessuno vuole e vi faccio un esempio semplice dove abitavo io che era la cittadina di glamair vicino 10 chilometri da cork gli affitti sono rimasti gli stessi di sempre perché non c'è competizione le persone dicono abitare a glamair dov'è glamair abitare a carrigaline dov'è carrigaline tutti questi questi paesini attorno che sono stupendi qualità della vita alta non avete persone gentaglia attorno perché sono la maggior parte residenti quindi non avete neanche il problema di dire a sono in irlanda non conosco irlandesi sono tutti sono tutte le persone del posto attorno a voi le persone da fuori sono un 1 per cento quindi saranno loro a chiedere da dove sei che cosa fai oggi quindi è bello vivere in quei contesti costa che dire quasi la metà di altri posti e quindi si risolve proprio alla base il discorso del caro affitto quindi ci sono tante tante maniere di affrontare la cosa naturalmente chi non vuole essere flessibile chi dice no cos'è un'ora per arrivare a di mezzi al lavoro no non sia mai e quindi non è disposto nemmeno i primi tempi a fare dei compromessi allora lì non si può fare nulla ma per chi ha voglia di essere più flessibile anche attorno a dublino ci sono un sacco di cittadine molto simpatiche e carine che sono dei bei gioiellini dove è bello vivere sono collegate bene via treno o via pullman e questo potrebbe essere una bella possibilità quindi magari farò un video in cui faccio vedere effettivamente su daft.ie dove stanno queste opportunità e vi garantisco che chi le scopre poi è contento molti si chiederanno e ma come faccio poi la sera quando devo uscire torno che la sicuramente qualche pinta di più l'ho bevuta come faccio allora ci sono anche lì degli escamotage diversi allora considerate che un taxi che voi prendete in maniera di solo al ritorno perché andate andate con i mezzi pubblici lì è una cosa piuttosto comune e quindi sicuramente non va a impattare il vostro budget mensile come pensate quindi se quello che risparmete di affitto sicuramente vi permetterà di potervi permettere qualche taxi in più su dublino città i quartieri fuori sono serviti da quello che si chiama il night bus oppure se avete la macchina potete contare sulla vostra abilità di guidare se ovviamente non avete non vi siete caricati d'alcol insomma le maniere alternative ci sono quello che voglio dire che non dovete farvi fermare minimamente da questa cosa queste notizie che ovviamente i giornalisti devono scrivere devono pompare sull'evento di alcuni speculatori che hanno messo dei prezzi folli per delle case ci sono sono sempre stati il discorso del del caro affitto il discorso della crisi immobiliare sono discorsi che ho sentito da sempre non sono novità nel 2006 c'era stata era la fine della tigre celtica di quel periodo di boom economico straordinario per l'irlanda che l'ha trasformata una volta per tutte e naturalmente si parlava di prezzi folli per le case via dicendo sembrava che si fosse raggiunto il tetto massimo della follia dei prezzi via dicendo e invece così non era era solo l'inizio di altri nuovi massimi è sempre stato così le persone hanno sempre avuto da dire hanno sempre fatto proteste per questo argomento e i giornali hanno riempito pagine e pagine però non è mai stato semplice nemmeno trovare casa in certi quartieri di dublino le file lunghe per le visite ci sono sempre state chiaramente adesso si sono esacerbate un po di più perché dopo il covid c'è stato veramente un così un effetto diga c'era molte persone che volevano partire che non erano partite per il covid e poi tutte insieme si sono riversate come qualcosa di mai visto però diciamo in periodi più classici insomma questo fenomeno è più mitigato insomma più la gente arriva in in maniera più uniforme bene ragazzi non fatevi fermare da questa cosa ci sono escamotaggi ci sono ci sono tante maniere diverse se una cosa la vuole fare deve smetterla di guardare gli ostacoli non sono ostacoli insormontabili e chi ne avesse bisogno questo servizio in cui ci mettiamo a quattro occhi a cercare le case che sono più adatte nessuno delle persone che ha usato questo servizio è stato mai spennato in maniera dal costo dell'affitto in maniera strana quindi ragazzi si può fare non riempiti via la testa di queste notizie altrimenti quando una una cosa in mente continuerà a vedere lo stesso tipo di informazione e a parlare con le persone attorno della stessa cosa e le soluzioni ci sono ci sono sempre state e probabile appunto il periodo possa essere ancora non dei migliori per chi deve cercare casa però ci sono ci sono sicuramente alternative ci sono anche città alternative pensate a Galway dove chiaramente tante volte meno gettonata rispetto a altre cose non è neanche lì facilissimo trovare casa però ci sono sempre dei sistemi alternativi ci sono dei lavori che vi permettono di lavorare da remoto in qualsiasi zona dell'isola quindi ragazzi non fatevi minimamente spaventare dalla situazione caro affitti perché è molto più importante quello che voi fate come esperienza all'estero piuttosto che stare lì a vedere quanto avete risparmiato sull'affitto perché tra dieci anni tra vent'anni non ve lo ricorderete quello che vi siete che avete risparmiato sull'affitto ma vi ricorderete che cosa l'estero ha fatto per voi e che siete diventati grazie a questa esperienza bene spero che il concetto vi sia arrivato noi ci vediamo al prossimo video buona giornata e alla prossima ciao